Musica Amici di Onda Libera siamo con Alberto Ramundo che è membro dell'associazione L'Officina e svolge un laboratorio di scrittura creativa anche all'interno delle carceri. Può spiegarci la sua attività? Sì, salve. Noi facciamo laboratori di scrittura creativa nella regione Marche in tre carceri Pesaro, Camerino e Fossombrone. Fossombrone lavoriamo con la massima sicurezza. Cerchiamo in questi laboratori, più che scrittura creativa, ora li cominciamo a chiamare creatività scritta. Cerchiamo di tirar fuori la creatività di ognuno che fa questo viaggio con noi. Ripeto, lo fa con noi, nel senso che siamo insieme a loro, discutiamo, scriviamo, ci mettiamo in gioco in qualsiasi momento noi e le persone che fanno con noi il laboratorio nelle carceri. Alla fine del percorso di laboratorio di scrittura creativa, che dura circa otto mesi, ogni volta noi pubblichiamo un libro che viene distribuito in tutta Italia nelle librerie e questa è la fine bella di un percorso fatto insieme a loro. Ogni volta c'è un titolo perché ogni anno c'è un tema, l'ultimo uscito si intitolava Lettere, parole da dentro, l'ultimo uscito che è uscito a dicembre. Il prossimo ancora non sappiamo il titolo, l'unica cosa che possiamo dire quest'anno tutto il libro sarà incentrato sulla poesia, sarà solo poesia. Gli altri anni è stata poesia e narrativa, quest'anno sarà solo poesia. E di solito sono i detenuti a scegliere di fare questa attività? Sì, assolutamente sì, non sarebbe creatività se noi imponiamo di farla. Proprio per questo mi farebbe piacere che uno di noi, perché uno di noi ci dice due parole. Vincenzo. Ciao, buonasera a tutti. Sono Vincenzo, sono ospite della casa circondariale Villa Fastigi di Pesa. Siamo qui in merito all'iniziativa dell'arte spigionata che permette di presentare alla popolazione, alla gente, qui nel cortile della biblioteca San Giovanni, i laboratori culturali che sono presenti nel carcere. E questo è uno di quelli che secondo me danno l'opportunità di evadere, tra virgolette, perché attraverso l'uso delle parole, il confronto, entrare anche in empatia con il prossimo, perché quando si scrive si mette in gioco se stessi e c'è la possibilità di conoscersi, quindi di abbattere quei muri che molto spesso creano il pregiudizio. L'importante poi c'è il fatto che nel nostro istituto, qui a Pesaro, anche il reparto femminile ha l'opportunità di partecipare a questi laboratori. Quindi c'è proprio un incontro, la costruzione di un ponte che veramente va oltre quelle che sono le condizioni di vivazione della libertà che in questo momento ognuno di noi, nella propria consapevolezza dell'errore commesso, in un percorso veramente di rivisitazione della propria esistenza, sta facendo. La prova ti permette anche di capire e di distingue quello che è l'uomo e quello che è l'errore. Perché quando si fa di tutto nel buon fascio si cade nella confusione, nell'emarginazione. E in questo momento penso difficile per tutti, qualunque sia la condizione in cui si vive, penso che qualsiasi cosa serva a far incontrare l'agenza, a conoscersi, serve ad avere la speranza, quella speranza che sembra essere persa attualmente in tutti i livelli della società. Grazie. Grazie. Grazie.